Comentato? Adesso sta registrando Iniziato? Devo andare corto? Come spesso posso segnare per te? Sono tutti bene ragazzi a questo wild food Bakugon Bakugon si Dove imparò per prima cosa a fare Far vedere un duello di 1 contro 3 E quindi Posso scegliere il dragone Perché ha una specialità molto bella E poi per gli altri C'è una specialità molto bella E poi per gli altri C'è una specialità molto bella E più o meno anche lui Ha una specialità molto bella Adesso abbiamo una specialità più forte E quindi non ce la voglio Possiamo scegliere Il trasporto Giappone E questo E ora è Giappone perché Anche se abbiamo vantaggi Perché sparire una cosa Che fa esplodere quelli Essere un vantaggio un pochino E qua ci spiegherà Ma se non ti colpisci Puoi spezzarla con C E allora qua potremmo fare Questo Questo video Durerà solo 3 o 3 parti E ora cominciamo Poi ci sono Poi ci sono andrelli All'interno della posizione Ora vedete la vediamo Purtroppo però dobbiamo fare la servitura Purtroppo E poi ci sono andrelli Anche se non ci sono andrelli E poi ci sono andrelli E poi ci sono andrelli Non ci sono andrelli Non so di toccare l'altro La cosa è no, non toccare la proprietà è un perno con il sistema di narizia che non avevi un numero ero molto sicuro quindi io non ho lasciato le scelte tasche e mi trovavo da quello che avevo fatto e mi trovavo da quello che avevo fatto e non c'è è un po' di fai e non c'è è sempre positivo E' successo perchè noi agli ombici soli volevamo venire tutto solo, ma ancora potrattelo Ora non lo farò solo, non lo farò solo Ma non lo farò solo Invece gli altri personaggi hanno un po' più schifo Soprattutto questo qua potrai Non lo farò quando toglie E' una massa e l'indvation che sono molto volete Ogli supporti un這個 E' un Systems Radi Cia un democchio non mi sono un nome non esiste che non mi sono nascita po è di più tutto lascia che sono inizia da dare non mi ha mai e non si è un'esprena ma la mia non so' quella bambina che ha fatto la domenica e i bambini non so' queste problematiche si è oltre un palazzo che si lo fa appena tu e l'oltre io ho pensato ma io ho fatto quindi prima me ha fatto ma i guadagli la costa un polla è solo in un'ostimità e lo scelgo c'è la carta innanzitutto incontrucio suono il rumore non lo so non li so non lo so non lo so ma cosa non lo so non lo so non lo so la carta è tornata l'ho sentita la carta lo stavisca e la mamma mi ha sentito male e facciamo io lo stavisca e lo stavisca e lo stavisca e lo stavisca lo stavisca ci abbiamo perso di pochi punti e non mi piace questa cosa lui mi fa più arrabbiare l'unice ho vinto dopo perchè sembra un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto il minuto un minuto un minuto un minuto un minuto non un minuto Ah, ma che cosa ne hanno fatto? Adesso, non ho fatto quello che fanno Io non ho fatto in strada e in distanza Però più almeno ho fatto per fare l'aria di prendere Mentre... Non mi sembra di stare No, cosa ne roba Non mi sembra di stare Ma non mi sembra di fare Ma non mi sembra di stare Giorno, non mi sembra Non mi sembra di stare Non mi sembra che E' un po' oriato Andiamo davanti a quello che c'è uscito E abbiamo davanti a noi c'è questa Grazie E' un momento che spaliamo E' un momento che spaliamo E' un momento che spalata 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 Ma è un momento che spalata Sì, ora è c'è Ora non so chi ci va Ma non so Io non so, mi sta arradiando Ora, mi spalata Questa è un momento di spalata Oh mio dio Sta bambina era un bruscato ok è normale che non l'ho data bene ora provo a fare mentre ti attiro perché non lo voglio no lo voglio lo voglio con lo cuore è tutto il cuore è tutto il cuore per l'appare è quello è tutto il cuore 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 e' tutto il cuore è tutto il cuore è tutto il cuore è tutto il cuore è tutto il cuore non ce l'ha illuminato è tutto il cuore per trovare quello che sicuramente sarà una parte che mi va poi con la bambina è parte scatta quindi cosa poi mi fa un bacco e poi mi fa un bacco che hai fatto qui e allora a prossimo e poi allora ma come suono le casette non si può fare ma nooo 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 buoncia nooo buoncia quello però esplodono perché non esploda aaaaaaah aia il mio troppo è morto questo e allora vabbè passiamo esplodono e ci diamo ma il mio e ci diamo poi non dice ma ma il mio paramo è ci diamo 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 25 24 25 25 25 25 Grazie a tutti.